Grazie Sindaco. Chiamo ora Patrizia Graziani, dirigente dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia, ambito territoriale di Bergamo. Grazie. Buongiorno. Apriamo oggi nella nostra città l'edizione 2019 degli Stati Generali della Scuola Digitale, che mi piace proprio chiamare espressione dell'ecosistema scolastico bergamasco, fermamente convinto che l'innovazione digitale sia uno strumento importante per mantenere il trend della crescita e dello sviluppo della nostra comunità al pari dei migliori territori d'Europa. Saluto davvero con molta cordialità il Vice Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Onorevole Anna Scani, e tutti i relatori che arricchiranno la giornata di oggi. Ringrazio l'amministrazione comunale della città che con molta convinzione in questi anni ha sostenuto il nostro progetto di scuola 4.0 all'interno della visione di Bergamo Smart City, aperta all'Europa. Sentiamo davvero la vicinanza del Sindaco Giorgio Gori, di cui apprezziamo la costante attenzione che riserva ai giovani e alla scuola in generale, come abbiamo appena ascoltato, e l'entusiasmo e il lavoro dell'assessore Loredana Poli, in un clima di confronto rispettoso e sempre di stimolo a fare di più e meglio. Con lo stesso sicuro sostegno e motivato impegno, volto non solo a questa iniziativa, la professoressa Dianora Bardi e l'Associazione Impara Digitale tengono alta l'attenzione, la discussione e la ricerca sul tema dell'innovazione digitale nell'impianto didattico delle nostre scuole. E come è tipico di questo evento, oggi sarà una giornata di lavoro e discussione su questioni e dati concreti sul tema del digitale. Per questo desidero innanzitutto elogiare la scuola bergamasca di ogni ordine e grado per gli eccellenti risultati ottenuti con grande impegno, profuso nel partecipare e far fruttare tutte le occasioni offerte per modernizzare le strutture e soprattutto la didattica nella scuola. È merito di tante energie profuse se le scuole del nostro territorio, in particolare nell'ultimo triennio, si sono non soltanto arricchite delle dotazioni, dotazioni rinnovate nelle metodologie, ma si sono anche aperte alla internazionalizzazione e cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, sono divenute più inclusive. A questo si è aggiunto il sostegno delle comunità locali, un sostegno concreto, di una rete di collaborazione, di sinergie provinciali e la generosità dell'imprenditoria bergamasca. I risultati di questo sono le molteplici dotazioni e occasioni arricchenti per gli studenti. Condivido in apertura dei lavori qualche breve riflessione su elementi certamente noti alla qualificata platea di oggi. Il primo dato di fatto, e non è una novità, è che lo studente e la studentessa immersi in una società digitale non possono più essere considerati ricettori pastivi che acquisiscono conoscenza semplicemente con l'esposizione ai saperi o osservando e ascoltando qualcosa di interesse. Lo studente impara se è protagonista del proprio apprendimento e se è immerso in un ambiente di apprendimento significativo. I nostri studenti, tutti nati nel nuovo secolo, sono cresciuti nel mondo degli anni 2000 permeato dalla telematica. Chi ha vissuto la fase di passaggio, come ad esempio la maggioranza degli insegnanti, si è dovuto sudare in proprio il raggiungimento di un'autonomia digitale che fatica molto a competere con le superiori capacità operative nell'uso del web dei giovani. Se da una parte si può pensare che l'uso dei linguaggi digitali nella didattica abbia una ricaduta positiva sull'apprendimento dei giovani, dall'altra si constata che l'uso dei linguaggi stessi non implicano invece di per sé una padronanza già raggiunta. E vi è un altro fattore sociologico da considerare. A partire dagli anni 80 del secolo scorso si è sviluppata una corrente della sociologia che si è concentrata sulle caratteristiche dell'apprendimento, da quello nozionale col quale impariamo memoria, definizioni e concetti di base, oggi definito surface learning, fino a quello profondo e motivante in cui mettiamo in relazione tra di loro le nozioni e i concetti più semplici generando così idee nuove più complesse. Il deep learning ed è a questo apprendimento a cui la scuola deve puntare per costruire la società della conoscenza dove l'apprendimento dura per tutto l'arco della vita. Mi sta poi particolarmente a cuore il tema dell'educazione civica digitale perché nessuno dovrebbe lasciare la scuola senza aver acquisito tra le altre le competenze digitali necessarie per essere utenti consapevoli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza e invito tutti noi educatori a rivolgere la stessa attenzione e cura educativa al tema della reputazione online troppo sottovalutata se non sconosciuta a moltissimi nostri studenti. Nella raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del maggio 2018 la competenza digitale non pone più l'accento solo sulla rete come ambiente di ricerca ma anche sulla gestione delle informazioni e contenuti sui dati e le identità digitali. È considerata indispensabile la competenza per sviluppare abilità di riconoscimento di software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e capacità di interagire efficacemente con essi. Al primo posto l'Europa ha posto non tanto gli aspetti tecnici bensì l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la programmazione e la sicurezza e infine la capacità di programmare e condividere contenuti digitali. I tempi ci chiedono di affiancare i nostri studenti in un percorso che li guidi ad acquisire una consapevole maturità digitale, soprattutto perché, come afferma il report Interna Italia 2018, destreggiarsi fra notizie e dati statistici online è una delle condizioni per essere compiutamente cittadini e per esercitare quel controllo civico alla base della democrazia. La questione centrale allora diventa come sfruttare gli immensi vantaggi della digitalizzazione mantenendo sempre vivo l'esercizio del senso critico nell'uso della rete. Dobbiamo fare un grande investimento in termini di energia e consapevolezza critica e quindi è necessario impegnarsi a costruire una società critica nella quale siano resi espliciti i pericoli in situazioni decisionali complesse. È questo uno dei compiti primari delle istituzioni, in particolare e soprattutto della scuola, che resta ancora oggi la principale istituzione che educa ad un uso formativo e critico dei nuovi media nella popolazione. E tutto questo richiede alla nostra scuola di lavorare in due direzioni. Da un lato investendo sulle competenze trasversali, ovvero sulla capacità di apprendere, di analizzare e risolvere problemi, di sviluppare tutte le forme del pensiero a partire dal pensiero logico e computazionale per arrivare al pensiero creativo. E dall'altro vi è una richiesta sempre più urgente di verticalizzare sulle competenze digitali, siano esse in relazione abitata, internet delle cose, cyber security, robotica o intelligenza artificiale. Con il digitale cresce perciò la competenza imprenditoriale come capacità di agire, di agire con creatività sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. A questo sviluppo dell'innovazione, anche in chiave di responsabilità sociale, ci ha invitato a riflettere la scorsa settimana Federico Faggin, ospite nella nostra città. Faggin lo conoscete tutti, è colui che ha inventato il microchip e i primi città screen, l'unico ad aver ricevuto nel 2010 dal presidente Obama la medaglia nazionale per la tecnologia e l'innovazione negli Stati Uniti. Il fisico Faggin, ospite alla Elab del chilometro rosso, ha ricordato agli studenti che all'inizio degli anni 60 i ricercatori di intelligenza artificiale, ipotizzarono che presto i computer avrebbero supirato l'intelligenza umana. Tuttavia i computer di oggi, nonostante siano molto più potenti, non hanno nessuna consapevolezza, non hanno una coscienza e non sono empatici, esattamente come i computer degli anni 60. Il computer è una macchina che si può smontare pezzo per pezzo e poi rimontare e quando la rimonti sarà identica prima, ha evidenziato Faggin. Allora è auspicabile che l'intelligenza artificiale faccia le cose meccaniche meglio di come le facciamo noi, ma con la supervisione umana e l'intelligenza umana, con l'obiettivo di creare strutture anche sociali finalizzate al bene comune. Avendo una cultura più umanistica, l'Europa può assumere il ruolo di definire l'etica con cui la tecnologia può essere utilizzata, governando una corsa all'uso anche indiscriminato dell'intelligenza artificiale per far soldi o controllare le persone, che è un pericolo vero, anche se non deriva dalla tecnologia ma dall'uomo. Un richiamo allo statuto etico dell'innovazione scientifica è doveroso. La vera intelligenza richiede coscienza e la coscienza e la consapevolezza sono qualcosa che le nostre macchine digitali non hanno e che credo difficilmente avranno mai. A tutti voi, numerosissimi, auguro una ricca e stimolante giornata. Buon lavoro a tutti.